Benvenuti sul canale dei news che vuoi tu, oggi parliamo del grande fratello, in particolare della lite avvenuta ieri sera tra Cristiano Malgioio e Francesca De Andrè. La settimana scorsa Malgioio aveva detto una frase che a Francesca non è piaciuta, cioè che il nonno di Francesca, Fabrizio De Andrè, si sarebbe rivoltato nella tomba vedendo il comportamento di Francesca all'interno del grande fratello. Francesca per tutta la settimana ha rimuginato su questa frase e andava contro Malgioio per quello che aveva detto, quindi in puntata Barbara D'Urso ha cercato di far chiarire i due, ma tutto si è risolto con un acceso scontro. Malgioio si è chiarito dicendo che poiché conosceva Fabrizio De Andrè e il suo modo di pensare, questo comportamento che Francesca sta assumendo all'interno della casa non sarebbe affatto piaciuto al nonno. Francesca ribatte dicendo che il nonno ce l'ha lei nel sangue, non Malgioio e che Malgioio non è una persona normale. Malgioio replica dicendo io non sarò normale ma tu però sei una pazza totale, è per questo che gli uomini ti lasciano. A questo punto Barbara D'Urso è intervenuta prendendo le difese di Francesca De Andrè e dicendo a Malgioio di chiedere scusa a Francesca per quest'ultima frase che ha detto. Alla fine Malgioio ha detto che fuori dal grande fratello magari andranno a cena insieme se andranno a prendere qualcosa. Intanto ad Alice De Andrè non piace come Francesca viene trattata all'interno del grande fratello e scrive un lungo posto contro Barbara D'Urso. Che ne pensate? Fatemelo sapere giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e noi ci vediamo con le prossime news.